Grazie, Presidente Juncker, io le confermo il voto favorevole del gruppo dei socialisti e dei democratici per la sua attenzione nei confronti del Parlamento, per la positiva nuova architettura istituzionale che lei ha scelto per la Commissione, per il suo invito a riequilibrare le politiche di austerità. Aggiungo che chi si è impegnato per le riforme strutturali coraggiose e si trova in una situazione di bassa crescita deve usufruire di tutta la flessibilità prevista nei trattati. Per la sua attenzione al sociale, bella l'espressione, la tripla A sociale, e su questo ci giudicheranno i cittadini più deboli. La nostra agenzia di rating sono i cittadini. Ha inoltre confermato la sua attenzione agli investimenti. A questo punto per noi è decisivo, ha ascoltato gli interventi dei colleghi e delle colleghe del mio gruppo. Quando lei ha parlato del piano di investimenti ha detto che è anche il settore privato ad avere grandi responsabilità e lei ha ragione. Resto tuttavia convinto che il rilancio dell'economia non possa essere esclusivamente appaltato ai privati e nel suo piano di investimenti deve esserci un chiaro impegno fatto di risorse pubbliche per investimenti pubblici. Sul mercato unico, noi siamo d'accordo con lei, servono riforme strutturali per ridurre gli ostacoli alla crescita. Però attenzione alla retorica delle riforme strutturali. Molti Stati da molti anni stanno facendo coraggiose riforme strutturali. Non si può continuare a dire che non basta, che devono sempre fare di più. Forse se nonostante queste riforme la crescita non riparte, il problema è che da sole le riforme strutturali non bastano, ma serve anche un rilancio della domanda interna. Il problema principale dell'economia europea è la debolezza della domanda interna. Un'ultima parola che ho sentito poco, solidarietà, che è la base del progetto europeo, fra Stati europei, fra cittadini europei, ma anche oltre l'Europa. Lei giustamente ha citato la tragedia di Eboleo. Ecco, questo deve essere il banco di prova per mostrare che l'Europa c'è, c'è ovunque si trovi nel mondo, qualenque sia la nazionalità, non lascerà nessuno indietro. c'è una bella frase di Don Luigi Ciotti che dice, non è tanto importante essere credenti quanto essere creduti. Questa è la sfida della politica, questa è la vostra sfida, questa è la nostra sfida. Grazie. Onorevole Legutko, prego. Grazie. Noi ci asperemo. Lei ha cominciato a intervenire.